Buonasera a tutti sono Giulia Contaldo e vengo da Firenze. Sono molto contenta di partecipare a questa rassegna di concerti in streaming online presso l'oratorio del Gompalone che si trova nel cuore di Roma. Questa sera eseguirò la sonata di Beethoven opera 111 e lo studio numero 8 di Debussy. Ringrazio moltissimo il maestro Romolo Balzani per avermi dato questa opportunità. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.